Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Dove Sarò storta, forse, non lo so Perché il cellulare è sottocarica Ho pensato di fare questo video mentre Faccio una specie di merenda che sarebbe Il pane con il miele Perché faccio tanti quiz su Instagram perché mi segue Ho due profili Instagram Uno con Red Princess, appunto, che è questo mio canale E con l'altro SarasMR Perché così cerco di Dividere le due cose Cappelli legati, non me li sciolgo per gli semplici Fatto, di solito per fare i video Mi sceglievo, l'unico problema è che Avendo adesso anche il tatuaggio Che a volte lo scopro E c'è troppo che mi scanno far svolazzare i capelli Proprio sto mangiando, quindi mi fa un po' schifo Comunque, questo video È un video che ho deciso di fare dopo un po' di tempo Perché, allora Io non mi vergogno assolutamente a mostrare la mia vita privata Nel senso che Ho fatto questo video perché molti mi dicono Non sarà non dire le cose tue private Allora, io sono libera di Di dire, quello che tra virgolette Voglio, nel senso che Non è una critica nemmeno si confronti Nel senso che Mi sono proprio libera Di condividere determinate cose Altre determinate cose no Quindi se io dico una cosa Perché la voglio dire Quindi Non vi preoccupate se Ma se dici le due cose private Poi ti possono Che ne so Insultare o altre cose Non c'è anche se insultare Non so Non faccio la delinquente né niente Quindi Ma posso Al massimo Per un paio da Cos'è stato Per un paio di mesi Ho avuto Netflix Non l'ho pagata Adesso lo pago Quindi per il resto Proprio Sono molto tranquilla Allora, volevo parlarmi di voi Per chi Mi conosce a tanto tempo Magari alcune cose Saprà già Voglio fare tipo un video Dove Mi presento io Non presento il mio canale Ma presento me stessa Un video dove racconto la mia storia Giusto per Le persone che sono nuove Perché sono arrivata A 1370 iscritti Riuscirò ad arrivare mai A 1500 Non lo so Sinceramente Lo scopriamo Allora Alcune cose che sono uscite Anche nei quiz Allora Io Prima cosa di me Mi chiamo Sara Il mio nome è reale Sara Mia 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 Mi ha chiamato Sara Perché Veniva dal nome biblico Di Sara La moglie di Abramo E Sara Significa La principessa Da qui il mio secondo nome Perché Red Princess Non è stato il mio primo nome Su Youtube Il libro non è stato Nemmeno nel secondo È stato il terzo Però Io ho aperto Un account Google E mi sono chiamata All'inizio Catcher Dream Infinity World Full Infinity Poi negli anni Ho diminuito il nome Catcher Dream Che era il mio nome Che avevo le origini Quando sono arrivata Forse sui primi mille Più o meno Anni circa Poi l'ho cambiato Perché Catcher Dream Nessuno usciva A pronunciarlo Molti mi chiamano Catcher Chi mi chiamava Charlie Chi mi chiamava Acchiappa Acchiappa Poi l'ho addirittura L'ho cambiato Da Catcher Dream All'Acchiappa Sogni Però poi Ho deciso di cambiarlo In Red Princess Perché Red è il colore Che mi identifica Non è il mio colore preferito Però è il colore Che mi identifica Sia per il mio colore Di capelli Che ormai L'ho messo Per lo stesso da anni Perché è un colore Che mi piace molto Oltre che Il mio colore preferito È il blu però Però Il rosso Mi piace molto A livello di oggettistica A livello di capelli Sopracciglia Anche nei vestiti Lo trovo molto elegante Da lì È nato il nome Il mio nome Che significa Principessa Appunto È il mio colore Red Princess Che sarà Significa Principessa Che altro Sono nata Il 20 maggio Del 1993 Quindi ho ben 26 anni A maggio Di quest'anno 2020 Saranno 27 Non mi vergogno Solutamente Della mia età Anzi Perché Spesso Mi dimostro meno Ma non mi interessa Anche se dimostrassi 30 Non è un problema Sono contenta Così Beh Come so Ho caldo Era meglio Con la luce spenta Prima Che l'ho accesa Comunque Per il resto Ecco perché Non faccio video mangiando Ecco una cosa Che potete sapere di me Non amo tantissimo Fare i video Dove mangio Ho aperto dopo Con calare ASMR Dove mi chiamo Sara ASMR Se volete potete Sarà come il deserto E' venuto da quello Volevo giocare Con il mio nome Perché Sara E' pieno Il mondo Ma ti vedete Che questo video Dove mangio Dove mangio Parlo Mangio Faccio l'SMR Non conto E' stuzzicare così Non mi dà Problemi Però Non mi fa impazzire Il fatto di Fare Vicino a voi Non mi fa impazzire Un conto E bere Altre cose Non mi dà problemi Adesso Scusatemi Per i versi Che farò Infatti Io non farò mai ASMR Dove Non in giro Penso Al massimo Non sul sushi Forse potete provare A improvvisarlo Ma mi fanno Pure schifo Non li guardo Sono sincera Non mi piacciono Quelli del cibo Mi fanno Venire Male Per non dire che cosa Allora Per il resto Sono stata a Torino Ho sempre vissuto a Torino Tranne per un periodo Che ho vissuto ad Avellino Perché il mio ex ragazzo E' di Giù Era di Giù E' ancora vivo E' di Giù Poverino Quindi per un periodo Ho vissuto anche giù Quindi in campagna Poi Mi sono ritrasferita a Torino Non mi ricordo Solutamente l'anno Mi ricordo solo che Avrò avuto una ventina d'anni E poi ho conosciuto Il mio torno ragazzo Che si E' Blame Blame E' Andrea 93 Il mio ragazzo E' Andrea Ora Quello è il mio amico Il mio compagno di scuola Che vedete In ogni benedetto video E in molti video Lui è il mio ragazzo Io sono fidanzata Anello Fedina Abbiamo la stessa Fedina E in molti video Ma siete fidanzati Sì Non è uno scherzo No Non è un gioco E All'inizio è nato Come gioco Da virgolette Perché eravamo migliori amici E tutto Io mi ero già lasciata Con il mio ex Non ho mai tradito il mio ex A scanzo di equivoci Perché c'è stata una storia dietro Dicendo che tutti Io conoscevo già Il mio ragazzo Quando ho lasciato il mio ex Ovvio che lo conoscevo già Ma eravamo amici Eravamo compagni di scuola Da lì migliori amici Migliori amici Possiamo Poi basta fare due calcoli E c'è arrivata Che non eravamo già fidanzati Quindi sono stata tanti anni Con il mio ex Ho avuto solo storie serie Storielle Così diciamo che Sì C'è nel senso di votazione Non sono una persona che Mi innamoro facilmente Mettiamola così Sono molto più restiace Nel senso simpio Magari uno Ci sono uscita Così E basta Non sono sempre stata così Come mi vedete adesso Tra l'altro parlo veloce Perché Non sento la mia voce C'è una Diciamo Non sono sordo Ho fatto anche l'esame E' una cosa del mio cervello Stiamo una così E' una cosa che Il mio cervello C'è il mio udito Non sente E' una cosa psicologica Io la mia voce Non la sento Né tanto forte Non sento Né in maniera reale Né il volume Né la frequenza C'è vero Come parlo veloce Parlo lento Veloce Piano Basso Quindi molte volte Nei miei video Capitava Che mi dicevate Sara ma Come parli veloce Come parli piano Poi stavolta Mi impappino Perché sono pur dislessica Sì sono dislessica Anche Tutti si fanno un copione A me verrebbe Difficilissima Farvi un copione Uno perché voglio essere spontanea Due perché leggere Lo specifico istante Quello che c'è Uno dove mettermi sempre gli occhiali Due Sembrerei un robot Perché leggo malissimo Quindi Io non farò mai copioni E non avrò mai copioni Ovvio che magari parto Sapendo già con quale argomento Parlerò a volte Però Il copione non ce l'ho Ma se non taglio il video Cambio alcune parti Tutto qua Però non ho mai un copione Ma se una volta mi segno delle cose Che ne so Magari perché sono dei video Non mi ricordo Poi va tutto con molta spontaneità E naturalezza I miei capelli non sono fatti Veramente così Ovviamente Sono tinti Come anche le mie sopracciglia Comunque Non sono mai stata così Oltre ad essere dislessica Perché sono sfigata Ecco sono sfigata Queste sono scelte di vita Che poi Ci ho fatto tanti video Tanti video E vorrò farne anche molti Nel 2020 Io ho iniziato a ingrassare Quando ero piccola Perché ero Però è normale Siamo di 140 kg Per i miei 18 anni Che è vero C'è un video fatto apposta Dove sono arrivata appunto 140 kg a 18 anni Da lì Prima dei miei 18 anni Mi era già scattato qualcosa Nella mia mente E non potevo più E non potevo più andare avanti così Premetto che Ho fatto tantissime diete Ma tante Ma tante Tante Tutti i tipi Tutti i generi Psicologi Psichiatri Tutto Per capire che comunque Non era solo un problema Psicologico Non era solo un problema Che a me piaceva mangiare Perché a me piace tutto Era mangiare Ma era un problema Anche del mio corpo Purtroppo Avevo un problema Comunque la tiroide Che non era risolvibile Però con le pastiglie Avevo un problema Allo stomaco Che non era risolvibile Con la santa trinità E quindi Al che io ho deciso Sotto ovviamente Consiglio della mia Dottoressa Di metabilista Per un'operazione chirurgica Questa operazione chirurgica L'ho fatta Un anno dopo Perché l'ho dovuto aspettare Perché mi passava Con la mutua Mutua Da virgolette Perché poi Tutti i costi dopo Comunque Si pagano E Ho aspettato Un altro anno ancora Perché i miei Hanno dovuto farmi fare Un'ottere dieta Perché ovviamente Penso che ogni genitore Beverisca Far fare al figlio Una dieta Che è un'operazione chirurgica Ho fatto un anno La dieta niente Ho perso qualche chilo Ma poi sono tornata Su Come prima Sempre su 140 Più o meno Tenendomi ero 130 Anche tenendomi ancora Io non scendevo mai sotto I 100 110 mi avvicinavo Massimo Una volta Vi ricordo Che forse mangiavo Tamente poco Mangiavo potamente poco Ma poco E è arrivato Forse 108 In me non scendevo Ho dovuto Ammazzarmi di palestra E non mangiare quasi nulla Per arrivare Forse ai 90 chili Ma non ce l'avrei comunque fatta Dopodichè Quindi ho preso La Io comunque Ero già oltre che mangiare 19 anni E ho deciso di mettermi in lista Questa operazione L'ho fatta a Brescia L'anno successivo Cioè non proprio un anno Perché mi sono operata a maggio E L'ho fatta quando Più o meno avevo 20 anni Sono operata Da lì ho perso Un bel po' di chili Come potete vedere Non sono grassa Cioè non ho preso però Diciamo che ho perso All'inizio Nei primi mesi 30 chili Man mano negli anni In totale Ne ho persi 70 Perché adesso ho preso 68 chili Peso adesso Quindi ho preso Metà del mio parole corporeo E sto bene Questo ho fatto Tutto C'è un video apposta Poi Con questo bene Per il resto Ovviamente ho comporto Conseguenze Solo a livello Di quello mangio Però Negli anni Tutto si risolve Che altro Allora io ho sempre Avuto una passione Per l'arte Mi piace dipingere Disegnare Creare Mangiare Mi piace tantissimo Cucinare Creare cose belle Mille cazzo Ne sa qualcosa Se vi seguite su Instagram Mi faccio sempre Cose Decorazioni Da mangiare E ho la passione Per gli sushi Mi piacciono molto I tatuaggi Anche se Non mi tappezzo Perché ovviamente Non voglio tappezzarmi il corpo Perché Comunque Uno costano E due E il mio corpo Ovviamente Non è una tela Preferisco disegnare Su quel punto lì Penso che comunque Se mi tatuaggi Siano comunque Una forma d'arte Come la cucina La danza Non so ballare Quello punto Poi no Però mi piacerebbe Un giorno Imparare a ballare Perché comunque Sembra una forma d'arte Ho sempre sognato Di imparare A suonare il pianoforte Ma non ci sono mai riuscita Perché costa un pochettino Altre cose Non sono tantissimo sportiva Il mio padre lo è Quindi diciamo che Quegli anni ho fatto Quasi tutti gli sport Che c'erano al mondo Tranne quelli forse Tipo pugilato Ma anche solo quello E porto che hanno A popolo E se li fatti quasi tutti Ho scoperto Che mi piaceva molto Nuoto Anche se all'inizio Piangevo Quando ero piccola Per il nuoto Amo il nuoto E poi mi è sempre Piaciuto un pochettino Diciamo L'hip hop Ma non ho mai frequentato Nel senso che L'ho solo visto Che altro Ah Sono allergica All'aglio e alla cipolla Dato la mia operazione Quindi non posso Non posso mangiare Aglio e di cipolla C'è un'intelligenza Molto forte Più per l'aglio Che per la cipolla È molto sushi E sì Mi piace più il sushi Della pizza A volte Tra l'altro la pizza Sono ben tre settimane Che non la mangio Però mi manca A volte stasera Mi mangerò la farinata Che non è la pizza Lo so Però ho voglia di Cosa di simile Le altre cose Amo viaggiare Purtroppo non sono mai Uscita dall'Italia Però mi piaceva molto Sono tornato al massimo Nel cofino con la Francia Il mio sogno è andare in Grecia In America E poi in Giappone Ho una passione per l'Oriente Che è nata Un po' per la mia ex migliore amica Che era Veronica E un po' Perché poi Conoscendo il mio ragazzo attuale Ci siamo innamorati proprio L'un l'altro E anche insieme Dell'Oriente Quindi Ho riscoperto Questa mia parte di me Che non sapevo esistesse Amo sempre fare cose diverse Ho un carattere molto sfaccettato Per chi sa Degli astri Come mia sorella Sono il mio sogno Impulsi Ma dipende dalle situazioni Mi piace a volte anche Programmare Mi piace fare le liste Io sono fissa con le liste Le liste dei video da fare Mi piacciono le liste So organizzarmi Mi piace essere anche organizzata Anche se a volte Mi piace fare le cose di impulso E ho dei caratteri Contrastanti tra di loro Mi piace molto viaggiare A volte mi piace anche stare Tipo a casa Mi piace andare al cinema Non sono una persona Da discoteca Non lo sono mai stata Quando avevo 16 Quattro, 15 anni Ci sono andata Ma non mi è mai piaciuto Mi piace andare in sala a giochi O che è proprio Perché sono più una ragazza Non so Mi sono obbriacata Due, tre volte Una è andata malissima Non ho più bevuto Super alcolici Dovisco farmi le cene Ed essere sobria Ho smesso anche di fumare Fumavo tanto io Fumavo tanto Quando Nei miei vent'anni più o meno Dai Quattordici Fino ai primi vent'anni Dopo l'operazione Fumavo tanto Poi ho smesso Perché ho detto Se non mi ammazza il cibo Non voglio che mi ammazzi il fumo E ho smesso di fumare Anche per il costo Che adesso spendo In mangiare Non scherzo Spendo anche per Comparmi le cose Fammi tatuaggi Ho tre tatuaggi Uno dietro la schiena Che è una chiappa sogni E poi ne ho uno qua Che è questo qua Che è una scritta Che significa Credi in te stessa Con uno yin Uno yang Lo yin e lo yang Sa significare Che secondo me Nella vita Abbiamo sempre Di momenti bui Di momenti Diciamo Non bellissimi Ma in mezzo All'oscurità C'è sempre Comunque la luce E viceversa Nel senso che Purtroppo Non bisogna mai Fidersi Che è brava E anche cattiva Ma perché Nell'animo umano Purtroppo Siamo fatti così Quindi Di non fidarsi mai Sempre Sciocamente di una persona Perché comunque Prima o poi Potrebbe cambiare Io amo il mio ragazzolo Però so che Ci sono delle cose Di lui Che a volte Mi fanno ghezzare E da lì Ho imparato Tramite appunto Il mio ex Che io Prima devo amare Me stessa Poi amare gli altri Devo imparare A vivere bene Da sola Cioè io sto benissimo Appunto Con il mio ragazzo È tutto Però il mio ragazzo Non è il mio tutto Il mio tutto Sono io E questo ho imparato Ho imparato Di credere in me stessa Credere nel fatto Che comunque Se voglio un obiettivo Lo raggiungo Perché io mi sono diplomata Quest'anno Mi sono iscritta Anche all'università Sto cercando lavoro Ho già fatto Dei lavoretti In quest'anno Ho fatto tanti Diversi lavori Quindi sono contenta Della persona Che sono diventata E che sto diventando E diventerò negli anni So che anche se vorrò Prima in un negozio O in un ristorante Un giorno lo farò Non so come Ma i miei Mi hanno sempre detto Che sono abbastanza testarda Se voglio una cosa Veramente una cosa La ottengo Non ho ancora ottenuto La patente Ma ce la farò Sono molto Diciamo Propensa Che va così Sono una persona Che purtroppo Non ho avuto Cioè Della parte Non ho potuto Avere le cose Con i miei tempi Però penso Non esista La fine un tempo Non è che per forza 18 anni Bisogna prendere la patente Diciamo Il diploma Cioè Secondo me una persona Deve fare cose Con i suoi tempi L'importanza è che fate Ciò che desiderate Vi do anche delle perle Di saggezza Tutte così Su di me Che altro Mi sono attinta Spessissimo i capelli Perché porto anche Alla scuola di parrucchiera Il mio A me I miei sogni Cioè I miei sogni Sarebbe il fatto Di scrivere un libro Mi sarebbe piaciuto Se fossi nato in America Fare la wedding planner Perché qua in Italia Nessuno si caga Questo lavoro E un altro lavoro Che mi piacerebbe tantissimo È un ristorante Multietnico Nel senso di poter fare Dalla sushi Alla pasta Qualsiasi tipo Versione proprio Moderno È una cosa che Nella mia mente È pazzesca Però non può essere Spiegato a parole Diciamo che Ho tanti sogni Tanti obiettivi Penso che almeno Uno su uno Su tutto Vorrei realizzarlo Tutto scrivere un libro Perché adoro leggere E adoro anche Appunto Scrivere Ho saputo tanti diari Per comunque Un modo di sfogarmi Un modo Per comunicare Con me stessa Tra l'altro Mi piacerebbe Un giorno leggere Magari i diari Che ho Se li ritrovo C'è un borsone pieno Di diari miei Di quando la più piccola Per capire comunque Come ero Molta volta Me li rileggo Per capire appunto Come sono cambiata negli anni E sono contenta Di come sono cambiata Perché mi sento Comunque che sono Molte cose che le persone Mi dicono Una volta non ci credevo Adesso sì Di essere più forte Di essere più indipendente Di essere comunque Una persona che Anche avendo vissuto da sola Anche se sono tornata Comunque indietro L'ho fatto perché Credevo nelle mie scelte Tutto ciò che ho Comunque scelto di fare Nella mia vita L'ho scelto per un motivo Non Sono una persona Che comunque ha dato Se stessa Se ci tene da delle persone L'unica cosa Che spesso Mi è capitato Di essere ferita E non poco Infatti ho pochi amici Ma buoni Se non Se non Considero più degli amici Perché Eventualmente Mi hai fatto un torto Comunque non ti sei rivelato Veramente un mio amico Una mia amica E ciò mi ha segnato Veramente tanto Se non ti Considero più Un mio amico Cioè non tolgo Il saluto a nessuno Né niente Ovviamente Perché non è che Mi ha ammazzato qualcuno Però ovviamente Non c'esco più Non ci parlo più Con alcune persone Invece Ci esco Le frequento tuttora Eccetera Il mio miglior amico Rimane sempre il mio ragazzo Poi anche delle mie amiche Non ho mai più avuto Una migliore amica Da classificare la tale Perché purtroppo Sono stata troppe volte Messa da parte Messa da parte per un ragazzo Messa da parte per un'altra amica Messa da parte Perché io dicevo di Perché mi si Veniva detto Che io tenevo più Il mio ragazzo E non era vero E quindi Ho deciso di Di non dare questo titolo Più a nessuno Finito sentite fare Bzz bzz E mi sciurare che vibra Sono molto social Nel senso simpio C'è un social network Non ci muoio Se non ce li ho Però mi piace molto Piccolo Instagram Quando ho scoperto Instagram Facebook Edittura mi ero tolta Ho deciso con il mio ragazzo Di rimetterci solo Per condividere I nostri video su YouTube Che sono Lo esigeno detto Due canali E ho iniziato a aprire YouTube Perché Questa spinta Me l'ha data Al mio ragazzo Che all'epoca Non era il mio ragazzo Per questa cosa Che avevo di parlare Allora ho deciso A aprire il canale YouTube E iniziare a parlare Parlare da sola All'inizio Mi vergogniamo un po' Poi mi è piaciuto sempre di più Perché comunque Era un modo per esprimermi Un modo per comunicare Con la gente Ho fatto anche Tante amicizie Ho conosciuto comunque Tante ragazze Che Penso quasi tutte Vorrebbero poi Incontrarmi Perché siamo Sparse per tutta l'Italia Quindi è anche una cosa Comunque bella Perché incontri Tante persone Belle Anche molte rincoglionite Però È molto bello Altre le cose Che potete vi su di me Ah Mi piacciono le tazze Le ciotole Ho una passione Per le tazze Le ciotole Tazza 1 Ho la tazza Della Feltrineglia Tazza del mio sogno Zodiacale E ne ho tipo tazze Per il tè Queste cose Molto orientali Mi piacciono tantissimo Mi piacciono anche Molto i fumetti Gli anime Adoro le polaroide Infatti Mia sorella Un anno Mi ha dato La macchina Per stampare Per fare le polaroide Però Non è una polaroide Di marca E Un instant camera Però è bellissimo Perché Adoro mi compro Ma le cartucce Mi dico sempre Che altro Posso dire Vi di me Il mio colore Perfetto Punto il blu Mi piace anche il rosso Per un anno Per un paio d'anni Mi è piaciuto anche il viola Moltissimo Tipo Mi piace anche questo colore qua Ah Solo anche leggermente Daltonica Quindi Daltonismo Si sono negli uomini Però io alcune sfumature Non le vedo Lo dico perché Alcune volte Nei video Mi dite Sara Ma quel colore Non è viola È blu A me realmente piace il blu Tipo Posso dire Questo qua È tipo un azzurrino Io lo vedo azzurrino Dimentico Che colore è È rosso Il rosso è un colore molto acceso Quindi lo vedo Ci sono alcune sfumature Che non vedo Nella mia vita ho fatto Diverse scuole Ho fatto Una scuola di informatica Una scuola d'arte Poi ho fatto Mi sono iscritta A un chimico Ma poi mi sono ritirata O mi sono operata poi E poi All'infine Mi sono iscritta A un turistico Però poi mi sono diplomata In un socio sanitario Le fatte tutte E poi Però Ho comunque La qualifica di perito turistico Dove ho imparato il francese Lo spagnolo L'inglese Di cui non so parlare Sono dei tre Sono qualche parolina Quello che so più Quello più capibile È l'inglese Anche se ci devo lavorare Poi che altro Ho fatto anche dei corsi Di wedding planner Di cake designer Un corso di parrucchiera Dove appunto Mi tengo da sola È un corso di night art Delle unghie Che non ho mai fatto Perché mi fanno senso Le unghie e i denti Sono due cose Che mi fanno proprio schifo Infatti io non farei male Le unghie E non farei male A dentista Se non avesse avuto Uno schifo Per il regurgito E per La popò Per un di l'altro Avrei fatto il medico Per alcune cose Mi fanno veramente schifo Potrei fare la tassatrice Non mi fa schifo Sotto me del sangue Nemmeno gli aghi Ed è anche da forma d'alte Però ho proprio Delle infezioni Quello sì Non so come mai Ho un terrore Delle infezioni Non sono germofobica Queste cose qua Però quando ho Tipo un taglio Una ferita Sono maniacale Non sono una persona Tanto ordinata Né disordinata Al giusto A volte Sono quei periodi In cui Mancare la mia camera Tutto in disordine Non da Da schifo ovviamente Ma il mio disordine È il mio ordine mentale Poi ci sono delle volte Che dico No non posso vivere così Metto tutto a posto Non è mai a livello di Ossessimo compulsivo È solo un modo Che ho di esprimermi Nel vestire Mi vesto come capita Nel senso che Dipende sempre dal mio umore Sono molto 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 emotiva E Te starda tanto A volte sono anche Un pochettino stronza È molto logoroica Come tutti Potrete notare E niente Se avete altre domande Fatemelo sotto Nei commenti Se non ho risposto A alcune vostre domande Che avevate in mente Ho lavorato Sì per Casanova Al cui mi hanno fatto Questa domanda Adesso non lavoro più Per Casanova Ho lavorato per un solo giorno Perché mi ha chiamato L'agenzia Open Jobs Per Bershka Che è il negozio Che c'è Alle gru sempre Sempre alle gru Mi ha amato alle gru E niente Domani andrò a fare Spese per i saldi Si spera Mi pare molto felice Però sono già contenta Di aver lavorato un giorno E spero che mi richiamino Perché comunque Mi è piaciuto molto Erano tante ragazze Mi è un'interessa molto carina A me piace sempre dire Dove è lavoro Perché non ho nessun problema Non spaccio droga Quindi Se volete venire Trovata da Torino Se lavoro in un punto Ve lo dico Non ho problemi Diciamo solo che Quando lavoro da Casanova Mi hanno detto loro Di non dire Che lavoro da Casanova Perché Non dovevo parlare Del lavoro Da Bershka Non mi hanno detto niente Forse A parte spionaggio industriale Perché non è che vado a dire Quale pentola del secolo c'è O magari Da Bershka Quale pantano del secolo c'è A massimo parlo solo Di quello che facciamo Preghiamo i jeans Pantaloni Serviamo alla gente Ci devono essere carina E coccolosa Tu qua Niente Io vi saluto Se volete Volete chiedermi qualcosa Ah Non sono figlia unica Ho una sorella minore I miei genitori sono separati Da tanti anni Ma Presso Quando Avevo 14-15 anni Quindi Da tanti anni A decina d'anni Anche di più Da 11 anni Però sono contenta così Perché Io abito In tot numero Mi padre Abita di fronte A casa mia Quindi se esco Con le ciabatte Lo vedo Quindi per quello Sono molto contenta I miei hanno un buon rapporto Quindi non ho mai sofferto Tantissimo per questo Anzi Sono più contenta adesso Di quando stavano insieme Perché comunque Litigavano sempre Quindi non dovevo fare così E poi Per il resto Poi si perde tutto La mia vita In 26 minuti Ma Ci sarebbero tante altre cose Però Diciamo che Scrivimi sotto Nei commenti Quello che volete sapere voi Vi saluto Vado a vedere Se il forno Ha preso fuoco Perché l'ho lasciato acceso Un saluto a tutti